Aggressione a martellate a Fermignano, arrestato 37enne, nessun rimpasto di giunta, acquaroli blinda tutti gli assessori. In Baia Flaminia il congresso della CISL alla presenza del segretario sbarra. Pesaro scalda già i motori del Natale, eventi al via dal 26 novembre. L'orchestra Sinfonica Rossini compie 30 anni e festeggia con 10 concerti. Benvenuti al nostro telegiornale, oggi è martedì 17 ottobre e apriamo questa edizione occupandoci del grave episodio avvenuto ieri a Fermignano dove il direttore del Conad locale è stato investito da una macchina e poi aggredito a martellate dallo stesso automobilista. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Matteo Bastianelli è stato dimesso ieri sera dall'ospedale di Urbino con uno zigomo fratturato, 13 punti di sutura al volto e decine di contusioni sparse per tutto il corpo. Nella stessa serata i carabinieri di Urbino hanno arrestato il suo aggressore Simone Babbini, 37 anni, operatore scolastico. È ora recluso nel carcere di Villa Fastigi con l'accusa di tentato omicidio. Bastianelli e Babbini sono vittime e carnefice della mattinata di follia di ieri quando alle 6.45 il 46enne direttore del locale supermercato Conad di Fermignano stava attraversando la strada quando una Ford Focus gli sfreccia l'incrocio rischiando di investirlo. Bastianelli solleva un braccio in vendo contro la guida scellerata e per tutta risposta Babbini alla guida dell'automobile torna indietro investendolo. Dopodiché scende dall'auto con in mano un martello e comincia a colpirlo con violente martellate oltre che con calci e pugni. Una furia cieca che viene attenuata dell'intervento di un netturbino presente sul posto che induce l'aggressore a risalire in macchina e darsi la fuga, di fatto salvando la vita a Bastianelli. Segnalata la targa che a Rabiniere è partita la caccia all'uomo che è stato individuato. L'auto era parcheggiata vicino alla casa di un parente con uno pneumatico esploso dopo essere finito nel marciapiede per investire Bastianelli. Questa mattina una maestra della scuola primaria pesarese di via Fermi è stata investita da un furgone sulle strisce pedonali mentre si stava recando a lavorare nell'istituto. L'impatto è avvenuto con un Ducato Deili in via Negrelli a pochi metri dalla scuola. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso con diversi traumi riportati agli arti inferiori. Dalla cronaca passiamo alla politica. Non ci sarà nessun rimpasto nella giunta a Quaroli. Il governatore chiude definitivamente all'ipotesi di sostituzione di tre assessori come auspicato dalla segreteria regionale della Lega. Io credo che la squadra non sia mai stata messa in dubbio da nessuno. Parole nette, quelle di Francesco Acquaroli che provano a mettere la parola fine ai venti di rimpasto di giunta alimentati da due settimane dalla Lega e in particolare dalla segretaria regionale Giorgia Latini, ex assessora regionale, che per esigenze di partito avrebbe gradito l'avvicendamento dei tre assessori del Carroccio, da Filippo Saltamartini fino a Chiara Biondi e Andrea Antonini, tra l'altro subentrate a legislatura in corso. Assessore che a Quaroli ha difeso e dopo due settimane di consultazioni si sarebbe arrivati ad una mediazione con la Lega che otterrebbe un tecnico specializzato sulla sanità. Non vedo problemi di nessuna tontura, vedo veramente una squadra che vuole impegnarsi nel pratico per dare le risposte in un momento dove ci sono in atto due guerre e delle crisi internazionali geopolitiche molto forti, c'è un'inflazione, c'è il costo dell'energia, il costo delle materie prime, il costo del gasolio, della benzina che tocca in tante regioni, per fortuna nella nostra regione siamo sotto i 2 euro, ma in tante regioni ha superato addirittura di 2 euro, credo che tutti noi dobbiamo animare e concentrati su quelle che sono le priorità e al di là di quelle che possono essere state le battute e delle situazioni, tutti abbiamo continuato sempre a lavorare per la nostra regione. Il Consiglio Comunale di ieri ha approvato all'unanimità la delibera per l'acquisizione dell'area dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto. Si tratta di un impegno di spesa di 2 milioni e 800 mila euro fra l'investimento di compravendita dall'azienda sanitaria territoriale e l'intervento di riqualificazione che porterà questa parte dell'ex manicomio a riconvertirsi in abitazioni popolari e uffici socio-sanitari. Nel Consiglio Comunale l'assessore Pozzi ha espresso la soddisfazione per il risultato raggiunto, ma ha anche sollecitato la regione ad intervenire per la parte del San Benedetto di sua competenza, evitando di mettere a repentaglio i 15 milioni di euro di fondi del PNRR stanziati per il recupero della struttura. Continuiamo a restare in tema di Consiglio Comunale. Ieri è arrivato anche il Via Libera, anche in questo caso all'unanimità, per l'acquisizione del parcheggio di Porta Cappuccina. L'area sterrata a fianco alla stazione Cavalcaferrovia è stata per anni oggetto di contenziosi fra pubblico e privato e ora diventa di proprietà comunale. L'esproprio dell'area è costato al Comune 587 mila euro, ne saranno investiti altri 90 mila per renderlo un parcheggio asfaltato da 145 posti auto, munito di colonnine per la ricarica elettrica. Il Comune di Pesaro si vestirà a festa per il Natale già da domenica 26 novembre. E questa è infatti la data fissata oggi attraverso una delibera di giunta dagli assessori Vimini, Franco e Lucci e anche dal responsabile degli eventi, Santini. Come preannunciato dal sindaco Ricci agli stati generali del turismo, si intende organizzare un Natale particolarmente ricco che faccia da trampolino verso l'anno di capitale della cultura. La riunione operativa ha confermato il tradizionale albero di Natale illuminato da 100 mila LED, i mercatini nelle casette di legno e i luminarie anche nelle vie secondarie del centro storico. Tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, ma sarà collocata in largo Aldomoro, anziché in Piazza del Popolo. Saranno preparate 4 mega installazioni di luci rappresentanti i soggetti natalizi e saranno allestiti spazi per eventi musicali, esibizioni di scuole di danza e performance artistiche. Oggi il centro congressi dell'hotel Baia Flaminia ha ospitato l'assemblea regionale della CISL alla presenza di 300 delegati e del segretario nazionale del sindacato Luigi Sbarra. E allora vediamo i temi emersi. Guidiamo il cambiamento. Questo è lo slogan scelto dalla CISL delle Marche che oggi si è ritrovata al centro congressi dell'hotel Baia Flaminia di Pesaro in occasione dell'assemblea regionale che ha fatto il punto sugli ultimi 4 anni del sindacato marchigiano indagando gli scenari futuri per i suoi 153 mila iscritti. Noi ci proponiamo in una giornata come oggi di interrogarci su come migliorare le nostre azioni di tutela, assistenza e rappresentanza a favore principalmente degli iscritti ma anche delle decine di migliaia di persone che si rivolgono a noi per affrontare i problemi dell'assistenza, della tutela sul lavoro, della previdenza perché attraverso quest'azione sosteniamo le persone nelle loro questioni del quotidiano e cerchiamo di dare un orientamento anche a quello che è il tipo di sostegno da offrire soprattutto alle persone più fragili e più deboli. Guidare il cambiamento implica questo tipo di attenzione perché il cambiamento necessario è quello che lega allo sviluppo sostenibile sul piano ambientale e economico anche un giusto quadro di attenzione alle tematiche sociali. Siamo 300 tra colleghe e colleghi, oggi ci siamo visti per fare intanto il bilancio della grande attività che abbiamo alle spalle ma soprattutto per progettare insieme il nuovo sviluppo organizzativo. Siamo la CIS delle Marche, siamo un'associazione poderosa svolgiamo attività di rappresentanza, di tutela, di assistenza, lo facciamo nei luoghi di lavoro lo facciamo nelle nostre 109 sedi che abbiamo dislocato nelle Marche. Presenta Pesaro anche il segretario nazionale Luigi Sbarra che ha tracciato le linee guida del sindacato. Vogliamo esserci per cambiare, per guidare il cambiamento, non subirlo e questo significa riposizionare l'azione sindacale sul terreno della responsabilità, del pragmatismo, del riformismo, dell'autonomia dalla politica valorizzando gli strumenti propri della rappresentanza sociale che per noi rimangono la contrattazione collettiva nazionale di secondo livello e anche il sistema della bilateralità. A questa impostazione di tipo politico noi oggi vogliamo agganciare una visione, una nuova elaborazione della dimensione organizzativa. Al pensiero vogliamo collegare l'azione che per la Cisle significa essere un sindacato protagonista nei luoghi di lavoro e nel territorio, vogliamo rafforzare la nostra prossimità, migliorare l'articolazione e la presenza delle nostre sedi per avvicinare quanto più possibile la rappresentanza sociale, contrattuale, il nostro diffuso sistema di servizi ai luoghi di lavoro, alle comunità locali per intercettare, interpretare, affrontare e risolvere questa domanda sociale, questi bisogni nuovi che si stanno alzando dalla società, soprattutto dopo il Covid e dentro questa condizione di difficoltà che le famiglie hanno nel difendere, nel salvaguardare il potere di acquisto minacciato è messo in discussione da un'inflazione alta e anche da prezzi e tariffe fuori controllo. Dalla Cisle alla Confindustria Pesaro Urbino che domani terrà invece la sua assemblea pubblica annuale alle ore 16.30 nella sala del trono del Palazzo Ducale di Urbino. Il tema scelto quest'anno dalla Presidente Alessandra Baronciani è la nostra impresa tra pubblico e privato, binomio possibile. Fra gli ospiti il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il Presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi. Nel corso dell'evento l'Università Carlo Bo di Urbino assegnerà il sigillo d'Ateneo all'imprenditore Vittorio Livi, fondatore e presidente di Fiam. Venerdì 20 ottobre, in occasione della giornata mondiale dell'osteoporosi, l'azienda sanitaria di Pesaro Urbino ha organizzato un open day di screening dell'osteoporosi e calcolo del rischio di frattura scheletrica da fragilità per le donne in post-menopausa. Lo screening consisterà nella valutazione dei rischi da parte di uno specialista delle malattie del metabolismo osseo. Le sedute si svolgeranno il 20 ottobre, dalle 9 alle 12, all'ospedale di Muraglia, presso Medicina Nucleare e all'ospedale di Fano, presso il reparto diagnostica. È necessaria la prenotazione telefonando domani, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 al numero 0721-3651-00, fino ad esaurimento posti. Arrivano i primi tre laureati nel corso di laurea Ingegneria, Sistemi Industriali e dell'Informazione, tenuto a Pesaro dall'Università Politecnica delle Marche. Si chiamano Matteo Mazzanti, Jacopo Morri e Riccardo Marzoli. Questa mattina hanno avuto una proclamazione di laurea anche nel municipio, che ha voluto premiare questo primo traguardo per i corsi universitari pesaresi. Domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 21, al Teatro Rossini, nell'ambito del 76esimo Festival GAD, andrà in scena Pensando Franca, uno spettacolo curato da Mattea Fo, che racconta l'attrice Franca Rame nel decennale della sua scomparsa, attraverso alcuni dei testi più significativi del suo teatro al femminile. In scena, monologhi interpretati da Valentina Lodovini, Lucia Vasini e Marina De Iuli. Questa mattina nel comune di Fano c'è stata la prima riunione tecnica tra l'amministrazione comunale e i tecnici del Giro d'Italia, che da pochi giorni ha ufficialmente visto la Città della Fortuna designata come arrivo della dodicesima tappa della Corsa Rosa 2024. La tappa sarà quella fra Martinsicuro e Fano del 16 maggio, in quello che sarà l'unico passaggio del Giro nella regione Marche. Dal ciclismo passiamo al calcio. Buon pareggio ieri sera per la Vispesaro, che nel posticipo di Pescara ha pareggiato 0-0 in terra abruzzese contro la terza forza del torneo. Per la squadra di banchieri si tratta del terzo pareggio consecutivo. Dallo sport passiamo alla musica, perché compie 30 anni l'orchestra sinfonica Rossini e per celebrare questo prestigioso anniversario ha presentato questa mattina una grande stagione concertistica da 10 appuntamenti. Presentiamo oggi la nostra stagione sinfonica 23 e 24. È una stagione a cui teniamo particolarmente, perché nel 20-24 l'orchestra compirà 30 anni. Era il 1994 quando un gruppo di strumentisti, tra cui il sottoscritto Saul Salucci violoncellista, si mise assieme per fare della musica appunto di insieme. Da lì nacque l'orchestra e oggi arriviamo a questi 30 anni e presenteremo una stagione davvero straordinaria. Un po' perché è un evento particolare, il trentesimo compleanno. Un po' perché dal 20-22 e solo oggi possiamo mettere a terra i finanziamenti che ci sono arrivati. Abbiamo ottenuto il riconoscimento di istituzione concertistica orchestrale dal Ministero della Cultura. E quindi una stagione maxi, 10 eventi di grande profilo, l'avvio di due cicli importanti, quello dedicato alle sinfonie di Beethoven e al compositore Brahms, la conferma di tutto il reparto artistico, quindi il maestro Paolo Rosetti, direttore per l'area artistica, il maestro Daniele Agiman, direttore principale, e una novità assoluta, il maestro Riccardo Bisatti come primo direttore ospite. confermatissimi anche il maestro Noris Borgoggelli alla formazione, Roberto Molinelli, compositore, Daniele Comitini pure. E quindi 10 appuntamenti che partiranno il 9 dicembre con il concerto di Natale e poi il primo gennaio con il primo concerto nel 2024 di Pesaro Capitale. Sono felice e onorato di aver ricevuto questa nomina in questa bellissima orchestra con cui mi sono trovato molto bene quando sono stato invitato. Per me è un grande onore, anche per dei programmi veramente impegnativi, ma di musica sinfonica molto importante, che affrontarli è sempre un onore e un piacere. Anche quest'anno un repertorio che spazia dal 1600 ai giorni nostri, spazia dai generi più classici, cosiddetti, il grande sinfonico, l'opera lirica, i compositori italiani, i compositori stranieri, il pop, fino al musical che ha debutato l'anno scorso, ha riscosso talmente tanto successo che siamo stati costretti, tra virgolette, con grandissimo piacere a replicare anche quest'anno, un titolo nuovo, francese, Moulin Rouge, e artisti internazionali, Leonora Armellini, che è una pianista per la quale ho una particolare predilezione e siamo onorati di averla nel nostro importantissimo concerto di Capodanno. Insomma, una stagione, credo, da non perdere. E concludiamo il nostro telegiornale all'insegna di bellezza e benessere. In questa intervista Davide Ziccarelli, esperto pesarese di cura del capello, ci dà qualche consiglio su come affrontare questa fase particolare, come il cambio di stagione estate-autunno. Siamo in pieno cambio di stagione autunnale, un periodo particolare per la cura del capello, una tematica che viene trattata quotidianamente da Stile Capelli di Davide Ziccarelli, al quale chiediamo alcuni consigli per affrontare questa stagione. Allora, diciamo che sì, è una stagione abbastanza importante, perché veniamo dall'estate, che dopo il mare, dopo essere andati in piscina e essersi esposti al sole, i capelli si sono sensibilizzati, dannezzati, dove troviamo dei capelli più secchi, più sfibrati, quindi adesso è l'ora di andarli a risanare. Noi di Stile Capelli, sono ormai 40 anni che ci occupiamo della cura del capello, in colorazioni 100% sane, dove, grazie all'utilizzo di una microcamera, andiamo a visionare bene lo stato di cute e capelli. E da lì andiamo a creare un programma specifico per ogni singola cliente, per la cura dei propri capelli. Per le donne l'esigenza di scheritura a capello è una procedura consigliata in questo periodo? Allora, sì, diciamo che prima di qualsiasi colorazione a scheritura andiamo un po' a stabilizzare bene lo stato del capello, quindi se è il caso di effettuarla, o magari è bene effettuare dei trattamenti iniziali per la cura del capello, e poi andiamo a effettuare scheriture. Adesso è un momento comunque dove tante donne si prestano a fare scheriture, perché comunque dopo l'estate si vuole un po' riprendere anche quell'effetto un po' come baciati dal sole, quindi sfumature sempre adesso di moda, effetti naturali, dal più biondo a magari effetti anche sul castano, cacao, cioccolato, adesso sta tornando tanto, quindi abbiamo un po' di tutti i colori. E dunque se volete cambiare look, siete indecise, potete contattarci direttamente ai numeri qui sottostanti, o su Instagram o Facebook, e niente, vi aspettiamo! E siamo arrivati alla fine di questa edizione, ma vi ricordiamo che subito dopo questo telegiornale vi presenteremo un altro dei trailer degli spettacoli che sono in concorso al Festival GAD. Rossini TV, infatti anche quest'anno, è partner della Rassegna e premia il miglior trailer fra quelli proposti dagli spettacoli in concorso. Trailer che possono essere votati, mi raccomando da voi telespettatori, sulla pagina Facebook del GAD Amici della Prosa. Questa sera vi proponiamo il trailer di Fanny Money della compagnia Ramaiolo in scena di Imperia, spettacolo che sarà poi in scena sabato 21 ottobre alle 21 al Teatro Rossini. Il trailer più votato riceverà il premio di Rossini TV in occasione della cerimonia conclusiva del Festival che si terrà domenica 29 ottobre. Ed ora andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV per questa sera. E allora questa sera, a proposito di GAD, vi raccontiamo l'ultimo appuntamento di queste tre puntate che abbiamo realizzato verso il Festival GAD. E poi a seguire trasmetteremo la commedia AA Aspiranti Assassini della Compagnia dell'Anello. E poi domani vi aspetto puntuali alle 7.20 sul nostro canale 80 con la rassegna stampa, vi aspetto chiaramente in diretta anche sulla nostra applicazione, sul sito o sulla pagina Facebook. Ho detto davvero tutto, adesso per voi il meteo, continuate e restate con noi su Rossini TV. Grazie e buona serata.